La stella Al-Gol, nel Perseo, in arabo significa la testa del diavolo o medusa, ed è stata la prima stella variabile ad eclissi ad essere scoperta. Proprio la sua variabilità che passa dalla magnitudine 2,12 alla 3,39 in due giorni, 20 ore e 49 minuti, ha sconcertato gli antichi attribuendogli appunto l'appellativo di testa del diavolo. Al-Gol quindi viene occultata da una sua compagna bruna provocando la sua eclisse. In realtà il sistema Al-Gol è un sistema ternario ma visibile solo in spettroscopia. Chissà se in questo tipo di sistema binario o ternario sarà mai possibile la vita su un ipotetico pianeta. Immaginate lo spettacolo ad avere due o tre soli danzanti nel cielo. Immaginate lo spettacolo ad avere due o tre soli danzanti nel cielo.